Modello Ride, prototipo, anzi anteprima 2014 di Merida, utilizzata dal team Lampre Merida per la prima volta alla Paris-Giroubaix 2013, al Fiandre, modello ovviamente da gran fondo con caratteristiche sia geometriche sia strutturali adatte per assorbire le vibrazioni, carro posteriore con tecnologia FlexStay che consente una certa flessione in senso verticale ma non laterale e sulla forcella inseriti nella parte bassa degli steli degli elastomeri che permettono di assorbire le vibrazioni ad alta frequenza trasmesse dall'asfalto al corridore. Questa in particolare è la Ride di Pozzato che parte da Compiegne con questa Ride con ruote ad alto profilo da 50 mm ma che poi prima di arrivare sul primo tratto di pavé di Troisville passa ad una Ride con ruote a basso profilo. Rapporti utilizzati da Pozzato per la Roubaix 53-44 sul plateau, 11-23 sul pacco posteriore con 11 velocità di Shimano.